Ciao a tutti ragazzi, sono Silvia e bentornati in un nuovo video un po' speciale Dopo vi spiegherò perché Come vedrete, c'è una nuova location con la bicicletta dietro Non è una ciclette Cioè, quelle che per... Non ci interessa Allora, questo video è un po' speciale Questo video è un po' speciale Perché mi starete chiedendo tutti? Lo so, lo so, lo so Ora ve lo spiego Allora, non sapendo cosa fare nei miei video in questo periodo Sì, perché è da un po' di mesi che non faccio video Ragazzi, mi dispiace Ne proverò a farne più possibile Perché era un periodo un po' così così Perché Erano problemi familiari Quindi Vedete Non so Tutto la I capelli Spettinati Perché mi sono appena svegliata Sì, lo so Questo video uscirà ovviamente il giorno dopo Perché bisogna fare Con il... Devo caricare Dopo devo fare... Non farò effetti Perché Dai, siamo alle basi Quindi Quindi Iniziamo Allora Oggi Vi stavo spiegando Questo video è speciale perché Oggi Facciamo Matematica Sì, ragazzi Matematica Allora Come potete vedere Sotto lì Sotto lì c'è un libro Di matematica Sì, sì Di matematica Ma non sto scherzando Oggi Vi aiuterò A fare i compiti di matematica Aggiungiamo i 100 like Perché Questa sia Una serie Così che Vi aiuti sempre A fare i compiti Ragazzi State tranquilli Io non ho mai preso Un'insufficienza Quindi Se Se c'è qualcosa di sbagliato Scrivetemi qua sotto Nei commenti Perché Con matematica Vado benissimo Massimo Massimo Avrei preso 8 Infatti Nelle pagelle Ho preso 8 In mezzo Quindi Va bene Allora Iniziamo Allora Ovviamente Io Non ve lo potrò Far vedere Perché Fuori così Perché io Ci vi tanto Non ho capito Ragazzi Non ve lo posso Far vedere Questo Vedere bene male Lasciamo stare Lasciamo stare Allora Colora All'intero Quadrato Oggi Facciamo Frazione Decimali I numeri Decimali Decimi Dopo Vi ripetete Vi faccio Un piccolo Gesso Decimali Decimali Ok Quindi Poi Le leggo Anche Bene Quindi Se volete Ripassarvi Andate Al minuto Tipo 5 5 Nemmeno E Vi farò Un piccolo Riescentino Dei numeri Decimali I numeri Decimali I decimi Colora L'intero Quadrato Dopo Lo colleremo C'è un quadrato Praticamente Quadrato Come il vostro Piccolo Schermo Il vostro Grande Schermo E dice Quando hai finito Di colorare Il quadrato Hai colorato Un intero Cioè Un'unità Quindi I numeri Decimali Sono anche Piccoli Delle unità Le unità Sarebbero Il numero Uno Praticamente I numeri Decimali Sono più piccoli Del numero Uno Quindi E Ti può Dire Il Nokia È più Basso Del Samsung Capite Capite No Incominciate Incominciamo Poi C'è Un quadrato Diviso In dieci Parti E dice L'intero È stato Diviso In dieci Parti Uguali Colorane Quattro Decidi Adesso Aspettate A farvi Vedere Vedete E ora Si vede Il contrario Però Se lo mettete Allo specchio Tutto Si vede C'è Un intero Diviso In dieci Parti Intero È stato Diviso In dieci Parti Uguali Colorane Quattro Decimi Quindi Ne dovete Colorare Quattro Pezzi Pezzi Quindi Un pezzo Tra tutte Queste Striscette Divise Quindi Tra tutte Queste Striscette Che sono Un decimo Un decimo Un decimo Ne dovete Colorare Quattro Soltanto Quattro Quindi Questo Questo Un decimo Perché Tutto No Quindi Se Ora Il nostro Libro Non è Così Non ci posso Farare Il mondo È caduto Il papo Dopo Ne colorerò Io Hai colorato Tutto il quadrato Sì o no No Ovviamente Ne colorate Solo Quattro Pezzi Che sarebbero Quattro Decimi Ah Il colorato Infatti Zero Interi E Quattro Decimi Che Sarebbero Quattro Zero Virgola Quattro Il numero Si scrive Zero Virgola Quattro Virgola Quattro Poi 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 Infrazioni Invece Dopo Ne faremo Di prezioni Quattro Barra Sotto Dieci Allora Significa Zero Unità E Quattro Decimi Infatti Quattro Decimi Frazione Decimale Dopo Vi spiegherò Perché Si chiama Frazione Decimale Si scrive Anche Zero Virgola Quattro Come Vi ho detto Numero Decimale Dopo Vi spiego Perché Si chiama Numero Decimale Non solo Numero O frazione Solo Poi C'è Un altro Di questi Interi Uguale E dice Quello Era due Decimi Vabbè Stessa cosa Solo con Il due C'è Cos'è Cos'è Caduta La macita Ecco ragazzi La macita Ok Allora Continuiamo Non pensiamo In avere gli occhi Vabbè Allora Vabbè Come Quest'un frazione Vabbè Il due Stessa cosa Comunque È sempre È sempre Lo stesso Quadrato Con Le parti Divise In dieci Parti Dice Colorano Due Decimi Stessa Cosa Solo che È con Due Allora Ora Il Ora Questo esercizio Sarà Per esercitarsi Un po' No Allora Quale parte È stata Colorata Scrivi sotto La forma Di frazione E Di numero Decimale Allora Ora Credo Che Dobbiamo Fare Così Ecco Ragazzi Vedete Ci sono Questi Piccoli Così Qua Questo Iniziamo Da questo Allora C'è un cerchio Con Diviso Non so Se si vede In dieci Parti Ecco Dieci Parti Uno Due Tre Qua Cin Sei Sette Oto Nove Dieci Ora Ne dobbiamo Ora Ne sono Qua Ne sono State Colorate Solo Tre Una Due Tre Queste Qua Allora Dobbiamo Scrivere Qua Questo È un Esempio Quante Parti Sono State Colorate Tre Decimi Perché Questo Cerchio È stato Diviso In Dieci Parti Ne Abbiamo Colorate Tre Quindi Tre Decimi Unità Ne sono Zero Perché Non Abbiamo Colorato Tutto Invece I decimi Sono Tre Uno Due E Tre Invece Qua Sei È stato Diviso In Dieci Parti Questo Ne Sono State Colorate Sei Infatti Ho Scritto Sei Decimi E Ora Si Vedete Al Contrario Ne Sono State Colorate Zero Unità Perché Non È Tutto Questo E Sei Decimi Questi Qua E La Stessa Cosa Con Questo Questo Intero È Stato Questo Intero È Stato Diviso In Dieci Parti Ne Sono State Colorate Otto Cioè Otto Decimi Zero Unità Perché Non È Stato Colorato Nessun Intero Quindi Nessun Cerchio Completo E Otto Decimi Che Sarebbero Questi Finita La Prima Pagina La La Prassima Volta Faremo I Decimi Allora Intanto Leggiamo Rizia Assunto Dovete Studiato Questo Parola Le Frazioni Che Hanno Come Denominatore Quindi La Parte Sotto Delle Frazioni Dieci Cento O Mille Si Chiamano Frazioni Decimali Le Frazioni Decimali Possono Trasformare In Numeri Decimali Cioè Oddio Questo Quattro Decimi Si Trasforma In Quattro Questi Sono I Numeri Decimali E La Frazione Decimali I Numeri Decimali Si Chiamano Così Perché Hanno Una Parte Intera Che Nei Prossimi In Prossimi Vi Spiegherò E Una Parte Decimale Allora E Una Virgola Che Li Separa Allora Tipo Zero Virgola Quattro E Numero Decimali Perché Ha Un Numero Una Parte Intera Che Sarebbe Lo Zero Che Sarebbe Anche L'unità La Virgola Che Li Separa E Il Quattro Che La Parte Decimale Quindi Non E Nemmeno Un'unità Allora Spero Che Questo Video Vi Abbia Aiutato A Fare I Compiti E A Studiare Addio Ciao Ciao Ciao